1061 firme di cittadini utenti per chiedere che la pubblica amministrazione trovi le risorse e la volontà per ristrutturare e ampliare la vecchia piscina coperta Enrico Meroni di Riva del Garda, costruita quasi 40 anni fa a Orsono e ormai clamorosamente insufficiente rispetto alle necessità del territorio. Stamane è stata depositata una petizione popolare in tal senso nelle mani del Presidente del Consiglio Provinciale Bruno Dorigatti. A illustrare la proposta, che in gennaio è stata presentata anche in Comune e presso la comunità dell'Alto Garda, sono stati il primo firmatario Enzo Feltrinelli e i vertici di Amici Nuoto Riva, la società sportiva che per conto della Federazione Italiana Nuoto gestisce la struttura. Il suo presidente, Luciano Rigatti, ha messo in fila dati che mostrano l'assoluta necessità di mettere mano alla piscina, oggi la più vetusta del Trentino e al contrario giovanissima in termini di effervescenza dell'attività natatoria, 60.000 ingressi all'anno. Una lunga serie di eventi e raduni agonistici di livello nazionale e internazionale, corsi per tutte le categorie di età. L'ingegnere Rigatti ha mostrato al presidente Dorigatti un proprio rendering dell'ampliamento che è possibile realizzare, con una spesa di circa 3 milioni di euro, in continuità con il lato sud dell'attuale edificio, su terreno già in proprietà del Comune e senza ostacoli di tipo urbanistico. Il risultato sarebbe quello di dotare la Meroni di un secondo piano vasca, portando la struttura a 20 corsie totali. L'opera viene descritta come complementare alla possibile realizzazione, in altri punti dell'Alto Garda, di un eventuale nuovo centro natatorio all'aperto e di strutture acquatiche per il divertimento, che una zona turistica come questa dovrebbe assolutamente avere. La consegna delle firme, stamane, è stata fatta da un nutrito gruppo di attivisti, tra cui la dirigente dell'Amici Nuoto, Lorella Danti, e la consigliera provinciale Manuela Bottamedi, ex ranista della categoria giovanile e firmataria della petizione. Il presidente Dorigatti ha spiegato che in tempi molto brevi la petizione sarà assegnata alla commissione consigliare competente. Naturalmente l'aspettativa è che l'amministrazione provinciale e quelle locali possano trovare l'unità di intenti per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie.